Non si ferma la querelle sul fotovoltaico ai tetti degli edifici comunali di Comiso, già al centro di un'infervorata seduta del Consiglio Comunale Casmeneo. Ad aggiungere altra benzina sul fuoco, il consigliere della lista La Torre, Pasquale Puglisi, autore di una nota al vetrole all'indirizzo del sindaco Alfano e dell'assessore allevori pubblici Cassiba, REI, a detta di Puglisi, di dichiarazioni altezzose rispetto a quella che definisce la libera decisione della maggioranza del Consiglio Comunale, che ha reinviato, per chiarimenti mai avuti, la concessione a privati per 21 anni del diritto di superficie ai tetti di alcuni edifici comunali perché vi installino impianti fotovoltaici. Va precisato subito, dice Puglisi, che di progetti importanti non c'è neanche l'ombra, che le eventuali scelte di progettazione degli impianti fotovoltaici da installare ricadono nell'autonoma discrezionalità dell'aggiudicatario della gara e che la produzione di energia elettrica degli impianti non servirà a migliorare l'efficienza energetica degli edifici comunali, ma sarà messa in vendita ad esclusivo beneficio dell'aggiudicatario stesso. E se sindaco e assessore avevano paventato il rischio di perdere circa 90.000 euro annui del canone base di locazione, per Puglisi vale l'esempio della piscina comunale, dove si era partiti da una pretesa iniziale di 20.000 euro annui per scendere poi al canone definitivo accettato di 1.000. Per Puglisi, se si vuole veramente economizzare, è necessario piuttosto ridurre la spesa, particolarmente attraverso l'uso corretto dell'energia, chiedendo ad esempio una copia dell'apposito manuale sull'uso dell'energia negli ambienti di lavoro che il sindaco di Genova ha fatto distribuire ai dipendenti del capoluogo Ligure, studiando negli elementari suggerimenti del tipo non alzare eccessivamente il riscaldamento, di giorno spegnere le luci, staccare le spine degli apparecchi non usati, chiesce per ultimo controlli che le luci siano spente, eccetera, infine adottarli. Per Puglisi si eviterà di spendere molto, ma molto di più, delle 90.000 euro annue.